Buonasera a tutti da Roberta Feliziani e bentornati a questo appuntamento in diretta Italia se... Italia città aperta, no c'è un po' di conflitto nella radio, questa è la televisione. Allora, Italia città aperta e staremo insieme dalle 21.30 fino a mezzanotte e mezza. Vi, come al solito, saluto la squadra, alla mia sinistra l'opinionista Antonia Rabbia, di fronte a me comunicati stampa Ludovica Iacovacci e ancora in redazione Cinzian Sant'Angeli, all'RVM Lorenzo Petrucci, regia Manuel Forcina, Emanuele Forcina, cominciamo bene, e Daniele Ricciuto. Allora, ci siamo tutti. Questa è stata una settimana molto densa per quello che riguarda la politica. L'argomento principe è stato, come al solito, la guerra in Ucraina. C'è stata la Meloni che si è recata a Kiev, ci sono state le risposte da parte di Putin, le risposte da parte degli Stati Uniti. Insomma, si è creata una bella bagarra a proposito di questa visita della Meloni a Kiev. L'opposizione, il Movimento 5 Stelle, hanno dichiarato che è stato tutto strumentale da parte della Meloni, che non c'è una volontà di mettersi intorno al tavolo per decidere una pace e per stoppare questa guerra. Su questo argomento si è espresso anche il Papa. Il Pontefice ha detto che è ora di finirla con vittime innocenti, una guerra assurda e crudele. Su questo siamo tutti d'accordo. Ma prima di iniziare, con la nostra carrellata di ospiti, io non avrei mai voluto dare questa notizia. È venuta a mancare oggi, all'età di 84 anni, il grande giornalista Maurizio Costanzo, anni e anni dedicati a questo mestiere del giornalista, scrittore, autore di molti programmi radio, di opere teatrali, anche di musiche. Insomma, un grande personaggio. Purtroppo si è spento in una clinica romana, aveva dei problemi cardiaci e non ce l'ha fatta. Va a lui tutte le condoglianze da parte di Cusano, alla moglie, ai figli, a tutti coloro e lo staff che sono stati per tanti anni vicini a lui. Io lo ricordo particolarmente perché il 23 maggio del 2021 è stato ospite qui in una mia trasmissione a Cusano Italia TV, che si chiamava Rotocalco 264. Era l'anniversario appunto della strage, la mafia di Capaci, dove i magistrati Falcone e Borsellino persero la vita e lui subì anche un attacco per essersi dedicato a fare delle battaglie. Maurizio Costanzo ha dedicato moltissimo tempo, moltissime sue inchieste e il famoso Maurizio Costanzo show proprio per combattere la mafia. È famoso il gesto in cui lui diede fuoco a una maglietta con scritto a basso la mafia e poi per questo subì un attentato con chili e chili di tritolo che fortunatamente non lo colpì, però insomma distrusse la sua macchina e da quel momento in poi fu seguita appunto da una scorta. 14 maggio 1993. Sì, tanti tanti anni fa, però lui ha continuato fino alla fine a fare questo lavoro meraviglioso che è quello del giornalista e insegniamo poi a tutti noi, come Bonolis ha definito i suoi allievi, siamo tutti allievi di Maurizio Costanzo, a metterci sempre la grinta nel fare questo mestiere, di non essere assopiti, di reagire, di intervistare, cercando di capire la curiosità che è la base di questo mestiere. Io lo voglio ricordare così, vedendo insieme a voi un pezzo dell'intervista che mi ha rilasciato quel 23 maggio del 2021. Buonasera Costanzo. Allora Maurizio, oggi è una giornata importante, tra l'altro sei qui all'Università Cusano dove tanti ragazzi che fanno scienza della comunicazione e non solo ti stanno guardando. Oggi è una giornata importante perché ci sei tu, ma soprattutto oggi è la giornata mondiale della legalità. 23 maggio di parecchi anni fa Falcone perdeva la vita, è stato uno dei tuoi tantissimi ospiti perché ha lottato a lungo contro la mafia, ha perso la vita lui, la moglie e tre persone della scorta in quel bruttissimo incidente. E c'è una frase che io vorrei ricordare e che hai ricordato spesso anche tu, chi tasce e chi piega la testa muore ogni volta che lo fa, chi parla e chi cammina a testa alta muore una sola volta. È così Maurizio? Sì, io da una parte per aver ospitato più volte Falcone ho ricevuto 70 kg di feritolo esattamente l'anno dopo. Sì, tutti i giornali ne hanno parlato, tra l'altro noi abbiamo una rassegna stampa, ecco qui la tua macchina dove tu abiti ai Parioli, assolutamente devastata. No, io uscivo dal teatro Parioli. Vicino al teatro Parioli, sì. È una macchina devastata e per puro miracolo tu non sei morto. Che cosa è successo? Per puro miracolo. Una cosa incredibile. E poi proseguì l'intervista appunto raccontando questo episodio sul quale poi lui ha scritto anche un libro. Bene, io continuo a giocare con questa piccola tartaruga che in una delle volte in cui le sono andata a trovare per parlare appunto del nostro mestiere perché amavo sentirlo parlare e spesso ci incontravamo lì a Prati dove ha i suoi uffici, mi regalò una di queste volte questa tartarughina perché lui amava tantissimo questi animali da una collezione infinita di tartarughe in ceramica, in qualsiasi materiale. E appunto dentro ci sono le iniziali, Maurizio Costanzo. E lui mi disse donandomela, guarda Roberta questa ti porterà fortuna nel tuo mestiere perché io lo sento che tu ci credi tanto e quindi la tua vita andrà avanti con il giornalismo. Grazie Maurizio per quello che hai dato a tutti noi e niente, sarai comunque presente perché il tuo insegnamento non sarà assolutamente destinato a distinguersi. Allora, adesso entriamo nel vivo della nostra trasmissione, ci colleghiamo subito con l'Europarlamentare della Lega, onorevole Annalisa Tardino, perché parleremo di un argomento molto interessante che ci tocca direttamente, il Made in Italy. È pronto il collegamento con l'Europarlamentare? Sì, eccola qua. Allora, buonasera onorevole. Buonasera. Allora, stiamo parlando di Made in Italy, un po' attaccato, anzi direi un po' tanto attaccato da tutti gli altri paesi europei che vogliono un pochino mettere in subordine il nostro Made in Italy perché è fortunato, perché abbiamo un sacco di prodotti di eccellenza, perché abbiamo un vino eccezionale che esportiamo in tutto il mondo e via via parleremo degli ostacoli che cercano di mettere alla nostra bella Italia. Allora, onorevole, secondo lei che cosa bisogna fare per tutelare la nostra originalità del Made in Italy per un fatturato, appunto il Made in Italy vale oltre 60 milioni di euro. Beh, tanto grazie e buonasera. Beh, io credo che noi della Lega ne abbiamo fatto da sempre una battaglia fondamentale e non certo per ideologia, ma perché ci siamo resi conto come linea politica del partito che tutelare il Made in Italy significa tutelare il nostro Paese le nostre eccellenze e tutelare, bisogna farlo a 360 gradi, intanto partendo dalla tutela delle aziende che si occupano di Made in Italy e quindi fornendo gli strumenti indispensabili sia a livello normativo, a livello tecnico per permettere di portare avanti la loro attività nel migliore dei modi, rendendoli capaci di competere con prodotti e con i flussi di mercato, flussi di mercato totale, a causa dei quali i nostri prodotti subiscono una forte concorrenza. Noi abbiamo sempre, come dicevo, fatto una bandiera della tutela del Made in Italy a 360 gradi, partendo dai prodotti alimentari ma finendo anche a prodotti che rappresentano l'italianità nel mondo, per esempio quello tessile, la moda, il design, quindi a 360 gradi e battagliando per questo. Lo facciamo a Bruxelles giorno dopo giorno e lo abbiamo sempre fatto nelle opportunità dei parlamentari. Ci siamo battuti dal primo momento contro per esempio l'etichettatura, ne parleremo più avanti, degli alimenti e io quindi credo che per tutelare a 360 gradi in ogni bisogna fare un'opposizione, costruttiva certamente, ma un'opposizione laddove ci siano dei provvedimenti di matrice non nazionale, di matrice europea tali da comprometterle e poi soprattutto lavorare in maniera costruttiva all'interno del nostro Stato per tutelare le nostre aziende. Noi siamo stati in questi anni, noi siamo a fine mandato, siamo stati in questi anni impegnati in Parlamento europeo come delegazione in un'opposizione, come dicevo, costruttiva, mettendo in evidenza quelle che sono le difficoltà che i nostri cittadini incontrano dal ricepimento di normative che non sono adatte. Oggi siamo al Governo nazionale stiamo cercando in positivo invece di attuare una politica costruttiva a tutela di tutto il Made in Italy. Certo. Allora a questo proposito si cerca un pochino di, come abbiamo detto nell'apertura, di dare un po' di colpi a questi prodotti Made in Italy. Seguiamo insieme questo servizio che riguarda la farina di grillo. No di grillo, del Movimento 5 Stelle, di grilli. Ecco, vediamo che cos'è questa novità. Produrre farina di grillo oggi per noi rappresenta una possibilità, un'alternativa a quelli che sono i tradizionali metodi di produzione di proteine animali. In questo momento pensiamo che allevare grilli significa farlo in maniera sostenibile, in maniera sana, rispettando il benessere animale e producendo quindi un ingrediente naturale e un'alternativa a quelle che sono le proteine tradizionali. Ci troviamo nel cuore delle Marche. Come nasce questa impresa? Nasce tanto tempo fa un po' per curiosità, perché nel 2013 abbiamo letto un articolo della FAO dove si diceva che con un aumento sproporzionato della popolazione nel futuro c'era bisogno di proteine alternative. La curiosità è diventata studio, lo studio è diventata ricerca applicata e ora siamo pronti, dopo anni di ricerca e sviluppo, ad entrare sul mercato con una produzione totalmente diversa e quindi andando su scala industriale. In questo momento giornalmente ci sono 10 milioni di grilli. In questo impianto ne nascono 600 mila al giorno. Fermo restando che siamo partiti tre anni fa con 10 mila grilli venuti dalla Germania, acquistati dalla Germania visto che in Italia non ce n'erano. Oggi i nostri grilli sono grilli italiani, visto che saremo alla cinquantesima generazione. Quindi è un grillo made in Italy? È un grillo made in Italy, vogliamo essere made in Italy, vogliamo creare un prodotto italiano. Non vogliamo rimanere indietro rispetto all'altra parte dell'Europa o del mondo. pensiamo che in questo momento produrre proteine da insetto e dal grillo nello specifico possa essere un'opportunità per tutti, soprattutto per quelli che sono i nostri agricoltori, i nostri allevatori, senza rimanere indietro ma soprattutto una cosa importante, senza pensare di andare a sostituire assolutamente niente perché non ci sarà da sostituire nulla perché abbiamo i migliori prodotti al mondo. Ecco abbiamo sentito questo imprenditore, produttore di farina di grillo che diceva non vogliamo sostituire la farina tradizionale, però qui c'è il gap che bisogna superare appunto in Europa, da dove parte tutto e poi viene imposto in Italia perché poi si decide tutto in Europa. L'abbiamo capito tardi, nel senso che fino a un po' di anni fa l'Europa veniva considerata un fanalino di coda anche della politica stessa, non capendo che invece il fulcro della politica sta proprio là, sta proprio là, è lì che si decidono le cose serie e importanti e poi le conseguenze ce le prendiamo tutti. Allora, quello che è assurdo è che vorrebbero mettere questa farina di grillo nella confezione di prodotti qualsiasi, per esempio anche i biscotti, anche la pasta e quello che stanno provando a fare gli altri paesi europei, non l'Italia, sarebbe quello di non metterlo in etichetta in maniera tale che le persone così acquistano un pacco di pasta e non sanno che la farina che è stata aggiunta, una pizza, qualsiasi cosa, dentro c'è la farina di grillo e questo non va bene e io so che la Lega sta portando avanti una battaglia molto importante al tavolo dell'Europa proprio per far sì che sull'etichettatura venga scritto farina di grillo, è così? Sì, assolutamente, noi stiamo portando avanti, ha detto bene, una battaglia importante contro questa intenzione che ci sembra anche molto più che un'intenzione, anche perché in altri contesti abbiamo appurato che l'Europa si muove in questo senso, siamo assolutamente contrari a questo tipo di prodotti e non solo perché da tradizionalisti riteniamo che i prodotti tradizionali della nostra dieta mediterranea, che come sappiamo tutti è riconosciuta come una delle diete migliori al mondo, ma lo diciamo anche con cognizione di causa, ci sono diversi studi che dimostrano che questo tipo di proteine non sono recuperabili a quelle tradizionali, oltre il fatto che da sondaggi portati avanti anche da associazioni di categorie agricole è stato dimostrato che non sono salubri così come vorrebbero farle passare. Io dicevo prima che noi ne abbiamo fatto sempre una battaglia, ma non per una questione di bandiera, ma per una questione di buonsenso. Certo, di tutela della salute, è molto diverso. Esatto, della salute dei cittadini. Quando parlavamo di sovranità alimentare qualche anno fa ci si diceva che volevamo utilizzare probabilmente anche in quel settore dei temi populistici, poi è peccato che durante la pandemia ci si è resi conto che anche sulla sovranità alimentare avevamo ragione. Quindi quella della battaglia contro la farina degli insetti è uno degli argomenti che ci tiene maggiormente impegnato oggi, in questo momento storico in Parlamento europeo, così come tanti altri. Ripeto, sempre a tutela di quelle che sono le nostre eccellenze, gli studi dimostrano che sono non solo eccellenze perché sono buone, ma perché sono salubri e salutari. Allora ci batteremo fino alla fine perché la dieta mediterranea venga valorizzata e questo significa la valorizzazione dei nostri prodotti. Ricordiamo che i nostri prodotti, parlo del vino, della pasta, del grano, sono tra gli alimenti che hanno un maggior export e vengono maggiormente apprezzati. Anzi ritengo che in questi anni, in questo stiamo anche lavorando, ci debba essere, ci sia già stata una certa sensibilizzazione, su questo stiamo, ripeto, lavorando, per sensibilizzare addirittura la produzione dei grani antichi. Quindi figuriamoci, per esempio in Sicilia è un argomento per ora molto, su cui si sta dibattendo parecchio, perché parla che i grani antichi avessero anzi delle proprietà ancora migliori rispetto a quelli attuali e quindi altro che farina di insetti. Quindi noi siamo in tutta altra direzione e lo faremo non solo a livello mediatico, con un'opposizione concreta, ma anche dal piano legislativo. Senta onorevole, c'è purtroppo quella famosa, l'immagine non le distruggeremo mai dalla nostra mente le arance distrutte in Sicilia, perché esistono dei dettami da parte dell'Europa che ci obbligano quasi a importare questi prodotti dall'est, Albania, eccetera, e quindi quello che è nostro non può andare sul mercato e deve essere distrutto. Allora, si può fare qualcosa dall'Europa finché venga tolta, revocata questa legge di importazione in maniera tale da valorizzare sempre di più il nostro territorio, perché diciamo che la guerra in Russia e Ucraina ci ha messo di fronte a una cruda realtà. Siamo dipendenti un po' da tutto e il grano non è nostro e abbiamo una penisola meravigliosa con intorno del mare un clima meraviglioso, terre non lavorate del sud Italia che potrebbero essere impiegate per la coltivazione di grano e tutto quello che ci serve. La stessa cosa, dicasi, con il Covid che ha messo in evidenza tutte le disattenzioni e le carenze della nostra sanità. Allora, per tornare ai nostri prodotti, sarà possibile fare una legge affinché si blocchi questa nostra dipendenza dagli stati esteri e si valorizzi invece il nostro territorio producendo il loco e vendendo il loco, dando così l'avvio anche a una grande forza lavoro, grande possibilità di dare lavoro ai nostri cittadini italiani. Ma guardi, lei sfonda una porta aperta perché io, peraltro, sono deputata della Lega siciliana, quindi rappresento il collegio delle isole Sicilia-Sardegna, quindi lei parlava di arance per cui, diciamo... Che sono le più belle al mondo, me lo permetta di dirlo. I limoni, le arance, come vengono su in Sicilia, non esiste posto, il sole, il clima meraviglioso, le terre meravigliose e noi li dobbiamo vedere, distruggere per questo conflitto che c'è con l'import exor, non si può fare. Guardi, questo è stato uno dei temi di campagna elettorale, non lo dico perché è uno slogan, ma perché è un obiettivo che ci siamo prefissati e che vorremmo portare avanti. Noi, come lei sa, siamo in opposizione al Parlamento europeo, per cui in questo mandato è stato veramente difficile riuscire a lavorare per avere concretamente dei risultati, però credo che la nostra opera di opposizione costruttiva, ripeto sempre, sia stata determinante anche nel adesso, lo dico a fine mandato, per aiutare a cambiare quello che è il sentimento, il mood e speriamo che abbiamo posto le basi, anche grazie al nuovo governo che ci sarà al momento delle prossime europee l'anno prossimo, in Italia così come in molti altri stati europei. Questo ci potrà aiutare certamente a formare una nuova maggioranza all'interno del Parlamento europeo, a darci gli strumenti per essere più operativi e quello di cui lei parla è uno dei primissimi obiettivi che noi abbiamo. Guardi, io le dicevo prima da siciliana, tutti i nostri prodotti che sono prodotti di eccellenza, dagli agrumi all'arancia, ai limoni, ma anche al pomodoro, alla frutta, subiscono purtroppo una concorrenza sleale da parte di paesi extra UE, dai quali importiamo senza aver necessità di importare. A questo si aggiungono altre problematicità riguardanti la continuità territoriale e questa per noi è una battaglia fondamentale, è una battaglia per la quale non le nego, io ho sposato, sono leghista da sempre, il progetto politico del mio partito perché è un partito che si occupa di territori e di tutela della territorialità. E quindi noi stiamo lavorando su questo fronte, oggi diciamo col governo nazionale sarà, non dico più facile, ma sicuramente meno difficile riuscire ad avere dei risultati anche in termini di maggioranza e di maggiore peso nelle istituzioni europee, perché poi le scelte che fa il Parlamento devono essere chiaramente avvalorate all'interno nel congresso tra i premier all'interno dell'Europa. E quindi confidiamo molto nella sinergia che si può creare attraverso un governo più autorevole, in quale quello Meloni si sta dimostrando, è una maggiore sinergia tra quelle che saranno le future forze di governo all'interno del Parlamento europeo. Antonio, una domanda per l'onorevole. Sì, meno vincoli e un sistema paese più coeso e competitivo. Questo è l'appello di ConfCommercio in audizione alla Camera. Questo mood si sente di sposarlo anche lei? Sì, certo. Un paese sicuramente più competitivo. Per questo, ancora una volta, ripeto, noi dobbiamo essere forti all'interno delle istituzioni europee per essere competitive. Certo, se per esempio essere competitivi significa, così come in questi giorni è sembrato palesarsi, per esempio distruggere quello che è un settore italiano d'eccellenza, che è la produzione di auto, allora non saremo competitivi. Allora noi dobbiamo essere competitivi a 360 gradi e tutelare le nostre aziende perché sono la colonna portante del nostro Stato. Non ci può essere uno Stato competitivo se non ha delle aziende forti che vengono tutelate dal proprio governo, dal proprio Stato e che possano portare avanti l'economia dello Stato. Quindi io sì, sono meno vincoli in più punti di vista. È un paese più competitivo su tutti i fronti, su quello imprenditoriale, su quello strutturale. Credo che dobbiamo essere più smart, più veloci e rendere l'Italia un paese anche più europeo di quello che è, ma a modo nostro. Certo. Visto che ha citato l'automotive, ritorno insieme anche io nel discorso. A parte che nella scorsa puntata, la settimana scorsa, Roberta, abbiamo dedicato quasi tutta la puntata a questo tema. Ma da quanto ho capito sono in arrivo altri aiuti per questo settore, l'automotive, che per l'Italia è fondamentale, insomma, vero? Sì, è fondamentale. Io chiaramente mi riferivo appunto al provvedimento che abbiamo approvato al Parlamento europeo, nonostante noi come Centrodestra abbiamo votato tutti convintamente contro. Purtroppo siamo riusciti a passare per una maggioranza, che è quella maggioranza di sinistra. Cercheremo di continuare la nostra battaglia contro e cercheremo di far sì che arrivino degli aiuti. Ma gli aiuti più concreti che ci possono essere è quello di consentire a delle aziende di continuare a lavorare e di continuare a primeggiare nelle loro categorie. Essere competitivi, insomma, restare fortemente sul mercato, lasciare un'impronta forte sul mercato? Assolutamente sì. Essere competitivi e lasciare un'impronta forte sul mercato, assolutamente sì. Anche perché abbiamo visto, Roberta, ne parlavamo proprio la settimana scorsa, le batterie, praticamente la Cina la fa la maggiore. Le materie prime, quindi ci ritroveremo anche in questo settore, dipendenti dalla Cina e dal Congo, che hanno le materie prime. Allora, io voglio un'ultima battuta prima di chiudere, onorevole. Il nostro export di vino vale 8 miliardi di euro l'anno. Allora, come possiamo difenderci da questa etichetta nera che vuole piazzare l'Irlanda, dove verrà scritto che il vino provoca il cancro? Beh, guardi, anche lì ci sono degli strumenti operativi per fare opposizione, non dobbiamo fare in modo che gli altri paesi adottino lo stesso sistema. Noi abbiamo anche, in occasione del Nutri-Score, della batteria, con la quale vorrebbero che venissero classificati in tutta Europa gli elementi. Abbiamo già, per esempio, ottenuto una proroga e continueremo a lavorare per eliminare, diciamo, questo tipo di etichettatura. Alla stessa maniera, diciamo, siamo riusciti in questi giorni a far passare, diciamo, alla ultima plenaria, a far passare la linea difensiva italiana, diciamo, sul vino e in un provvedimento siamo riusciti a fare in modo, diciamo, che poi è il piano, diciamo, per la lotta contro il cancro, diciamo, all'interno del quale veniva inserito il vino come elemento che, alimento che provoca il cancro e siamo riusciti, diciamo, a fare eliminare con una maggioranza, peraltro, diciamo, non risicata, ecco, quel riferimento. Per cui, da questo punto di vista, c'è stata, diciamo, abbastanza soddisfazione da parte nostra. Alla stessa maniera lavoreremo per far sì, diciamo, che, diciamo, questa, diciamo, follia irlandese, diciamo, non venga, non trovi, non contagi altri stati, diciamo, è importante sottolineare come l'assunzione di vino con dose moderate, diciamo, e responsabili non provoca assolutamente il cancro e questo, peraltro, non è un problema, diciamo, nostro, ma è un problema, diciamo, o meglio, non è un problema di tutta Europa, ma è un problema quello delle assunzioni a dose, diciamo, non moderate, che riguarda l'Europa, gli stati dell'Europa del Nord o dell'Est, quindi credo che bisogna anche lì fare, diciamo, un'opera mediatica, diciamo, comunicativa importante, diciamo, e anche, diciamo, supportata dagli studi scientifici importanti. Senta, onorevole, un'ultima battuta veloce. Allora, secondo lei, si sta spingendo in Europa verso le macchine elettriche, 2035 l'adeguamento, spariscono motore a scoppio e solo macchine elettriche. La Cina ha il primato sulla costruzione di queste batterie. si sta spingendo su le farine a base di insetti. La Cina lo fa da una vita. Ma non ci viene un po' a noi europei il sospetto che la Cina si stia prendendo il mercato pure della nostra Europa, sia entrata di sottecchi e, insomma, a forza di spallate, ci vogliono proprio togliere di torno a noi italiani? Ma, guardi, insomma, allora, intanto, prima stavo per dire, per concludere la fase, dicendo questo, diciamo, che a proposito delle batterie, diciamo, elettriche, diciamo, questo provvedimento che abbiamo adottato, passa, diciamo, per, come un provvedimento che deve tutelare l'ambiente, quando in verità sappiamo che lo sbattimento, diciamo, delle batterie elettriche, diciamo, è cosa molto complicata, diciamo, è anche più impattante a livello, diciamo, gli ambienti rispetto a quello, diciamo, dell'alimentazione, diciamo, con benzina o ditele. E quindi, secondo lei, è così, è la Cina che sta spingendo verso. Assolutamente sì, guardi, diciamo, speriamo che non ci sia... E questo è importante, perché lo sa, onorevole, almeno bisogna avere l'onestà di dare, fare delle affermazioni, prendendosi la responsabilità, ma con coscienza. Io quando lo chiedo a diversi politici, eh, ma qui no, ci girano intorno. Allora, la Lega ha il coraggio di dire, sì, è così, è la Cina che sta spingendo. È inutile che ci giriamo intorno e facciamo i diplomatici, perché in questo caso la diplomazia è veramente fuori luogo. Io la ringrazio per l'onestà, per la risposta, grazie infinite all'onorevole Anna-Lisa Tardino, ricordiamo, europarlamentare della Lega, molto interessante l'intervista che ci ha concesso. Grazie infinite, buon lavoro e appuntamento alle prossime interviste. Buona serata. Grazie, buonasera. Allora, diamo la linea alla pubblicità, poi tanti ospiti ancora. Italia, città aperta.